Benvenuti a un nuovo appuntamento dell'Evangelo di Dio. E' scritto, vogliamo leggere un verso, solo un verso, dal libro del profeta Isaia, capitolo 1, è scritto, c'è proprio un invito di Dio, è scritto, poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E' Dio stesso che fa un invito, un invito a ogni creatura, un invito al popolo di quel tempo, ai tempi del profeta Isaia, ma questo invito lo rivolge ancora a me e a te. Egli non vuole che abbiamo un rapporto con lui religioso, di riti o solo di formalità, senza un dialogo diretto, una conoscenza personale con Dio. Lui dice, venite, parliamo insieme o discutiamo insieme. E fa questo invito proprio al popolo di quel tempo, prima di tutto, poi anche a noi e anche a te ancora oggi, o a un popolo peccatore, un popolo che si preoccupava delle formalità, offrivano dei sacrifici a Dio, o facevano delle feste, celebravano delle feste al Signore, ma senza un dialogo personale con Dio, non si importavano della relazione con Dio. E il Signore dice, venite, discutiamo assieme, io vi perdonerò i peccati. La prima cosa voglio sottolineare che lui non dice, se siete puri, se siete santi, se siete persone che non hanno peccato, allora potete avere relazione con me, potete discutere con me. Meno male che non è così, altrimenti non ci sarebbe stata nessuna possibilità, né per me, né per te, perché dice la Bibbia, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma il Signore rivolge l'invito proprio a coloro che dovevano essere perdonati. E' scritto che quando Gesù venne sulla terra, tanti i suoi contemporanei religiosi di quel tempo lo accusavano e dicevano, ma il vostro maestro, dicevano i discepoli, il vostro maestro va in casa dei peccatori, dei pubblicani, mangia con loro. E Gesù rispose più di una volta, candidamente, ma io non sono venuto per chi si sente santo, per i santi, io sono venuto proprio per i peccatori, per coloro che hanno bisogno di perdono. Io sono venuto a chiamare dei peccatori a ravvedimento. Io sono il medico e il medico va dai malati, i sani non hanno bisogno del medico. Non stava dicendo che c'erano alcuni che non avevano bisogno di perdono e di salvezza, ma alcuni si sentivano così giusti da non desiderare il perdono di Dio. Gesù a loro non voleva rivolgere alcuna parola. Ma prima del testo che abbiamo letto dice, lavatevi, purificatevi, e poi io perdonerò i vostri peccati. Sì, dal canto loro e diremmo dal canto nostro oggi, noi abbiamo bisogno di manifestare il nostro desiderio di lasciare il peccato. Per realizzare la salvezza di Dio, le opere grandi, l'opera meravigliosa di grazia, le opere grandi che il Signore può fare nella nostra vita, c'è bisogno di credere in Dio, di fede. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, non con formalità ma con fede che il Signore esaudirà la preghiera, con fede che il Signore è reale, è potente a perdonare i peccati. Egli sarà premiato. Chi si accosta a Dio e crede e lo cerca, sarà già premiato. Egli, il Signore è il premiatore di quelli che lo cercano. Ma c'è bisogno anche di ravvedimento, dice la parola di Dio. Sì, la volontà personale di lasciare il peccato, di lasciare la via che ci allontana da Dio e il desiderio di accostarsi a Dio, di camminare con Dio, di realizzare le benedizioni di Dio. Ecco, il Signore vuole vedere il desiderio nel nostro cuore. Dice, purificatevi, allontanatevi, togliete via da voi le azioni malvagie, smettete di fare il male, poi venite, discutiamo assieme, e anche se i vostri peccati fossero come lo scallatto, diventeranno bianchi come neve. Dio ci invita a parlare con Lui, ci invita al dialogo. Egli dice, coloro che vengono a me, io non li caccerò mai fuori. Coloro che vengono a me, io sono pronto a rialzare, a purificare, a liberare. Perciò andiamo a Lui, portando i nostri pesi. Gesù diceva, voi tutti che siete affaticati, venite a me e io vi darò riposo, riposo all'anima. Portiamo a Lui i nostri peccati, confessando con sincerità i peccati del nostro cuore. Portiamo a Lui i nostri problemi, portiamo a Lui le nostre paure. Egli è un Dio che libera, che salva, ancora oggi. Se tu vieni a me, io mi lascerò trovare, dice il Signore. Dio benedica la tua vita, la tua famiglia. Se tu lo cerchi, lo incontrerai per certo.